Bambini fatti saltare in aria come bombe umane. Atrocità senza limiti. Questo è Bo-Karam. L'Europa non può non vedere. L'Europa non può non parlare. L'Europa non può non sentire. L'odio non ha confini. Il fanatismo, il terrorismo, l'estremismo si vincono ogni giorno promuovendo dialogo, tolleranza, ragioni di speranza. Senza speranza non c'è futuro per l'Europa. Senza speranza non c'è futuro per l'Africa. Stop Bo-Karam. Stop Bo-Karam. Stop Bo-Karam. Stop Bo-Karam. Stop Bo-Karam. Stop Bo-Karam. Stop Bo-Karam.